Valmar presenta il salva cipolla, il sacchetto che si trasforma in un cestino e conserva il gusto. Lo sapevi che le cipolle restano fresche più a lungo se conservate al buio? Per evitare le proliferazioni di germi e microrganismi, bisogna evitare il contatto con la luce e mantenere una leggera circolazione dell'aria. Lo sapevi che conservare le cipolle in contenitore di vetro, ceramica o buste di plastica è sconsigliato? Un comune contenitore di plastica trattiene l'umidità che fa germogliare le cipolle. Nei contenitori con scarsa circolazione dell'aria e molta luce, i microrganismi proliferano, portando le cipolle alla decomposizione. Il salva cipolle garantisce la conservazione, offre una sistemazione fresca e buia, mantiene inalterata la qualità, impedisce la creazione di muffe e microrganismi. Grazie al doppio strato di puro cotone del salva cipolla, l'unico brevettato. Con il sacchetto salva cipolla eviti gli sprechi, l'insorgere di malattie e intossicazioni. Una vera attrazione in qualsiasi cucina, con un design semplice, d'impatto e senza tempo. Disponibile su salvacipolla.com Grazie a tutti.